Gli abbergatori ci hanno segnalato una buona situazione delle presentazioni, speriamo che questo venga confermato nei prossimi giorni, naturalmente il tempo meteorologico avrà la sua influenza sugli arrivi dei prossimi giorni, però devo dire che questo fine settimana è ben occupato, anche negli abberghi di alta categoria, confidiamo che questo vada avanti fino al 6 gennaio. Facciamo un passo indietro, com'è invece il bilancio del primo periodo da vento e della Natale? Diciamo che evitare il bilancio è un pochino presto, la nostra sensazione è che le cose siano andate bene, anzi forse meglio avere le aspettative, però aspettiamo al 6 gennaio, saremo in grado di quantificare i pernotamenti con il mese prossimo e quindi rivedere la proporzione fra l'andamento dei pernotamenti e quello degli arrivi giornalieri. I segnali che noi riceviamo dalla maggior parte degli espositori sono buoni, quindi hanno lavorato, però è importante sentire anche quello che dicono i commercianti, del resto della città e questo bilancio lo faremo a mercatibili uso.